Co-Car, un nome, una garanzia. 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 avete dato tutti il massimo? sicuramente no se avessimo dato tutti il massimo secondo me non perdavamo se perdi soprattutto così vuol dire che non hai dato il massimo io ero uno di quelli che diceva sempre che la squadra ha dato il massimo anche quando abbiamo perso con la Pro Patria o Atriti avevamo fatto degli errori però la squadra ha dato il massimo oggi e forse anche la penultima a San Giusto non abbiamo dato il massimo per la squadra reale che siamo e questo penso sia onesto da dirlo è inutile nascondersi dietro a parole fatte adesso bisogna ripartire cercando di partire da onorare un pubblico da ascoltare perché insomma giustamente loro vivono la piazza meglio di noi e loro vogliono vincere e hanno ragione quindi abbiamo delle partite da giocare da dimostrare se qualcuno di questi giocatori può giocare nell'eco penso sia questo l'obiettivo di questa partita penso che comunque i giocatori forse quelli un po' più di esperienza hanno sempre dato il massimo chi più chi meno nessuno si è mai tirato indietro se qualcuno si è tirato indietro si assumerà le sue responsabilità però è normale che per giocare qui bisogna essere giocatore chi non lo è c'è un mercato c'è un altro anno e non giocherà più all'eco è normale il calcio non è adesso è sempre stato così quindi chi vede le partite vede e poi insomma ci sono tanti giocatori in giro io penso che tutti noi lo sappiamo e ce ne sono tanti ognuno si assume le sue responsabilità e pensa se ha dato il massimo o se o se può dare di più io voglio tengo a precisare che comunque sto parlando di giocatori società e allenatore cioè vorrei mettere tutti un po' nelle responsabilità io sono il capitano di questa squadra mi assumo la responsabilità della squadra e di una squadra oggi poteva fare di più però ognuno per me deve assumersi i suoi i suoi responsabilità 24 ore al giorno di musica e apporta 24 ore di emozioni più celesti forse non è la notizia peggiore di oggi forse non è la notizia peggiore di oggi questa attestazione sulla prima domanda devo dire che poco da giugno rispetto a me ho andato la partita avete visto la mia cosa che posso dire è che tante io dico sempre questa è una notizia un po' un po' particolare sicuramente aiuterà a tutti compreso il sottoscritto che ha abbastanza esperienza ma è una notizia che mi migliorerà sicuramente sinceramente cercherò di prendere per migliorare sicuramente comunque tutte le cose soprattutto negative ti portano a reagire e migliorare comunque l'unica cosa che posso dire è che io come penso a tutti quelli che hanno fatto parte di questo gruppo quest'anno io ho dato il massimo poi sinceramente il discorso è sempre di una coscienza personale quando uno dà tutto se stesso poi sinceramente il calcio se l'ho aumentato io e anche noi sappiamo che sono contento di averci provato e non ci sono riuscito a provare oggi la squadra proprio non ti ha seguito ti ho visto da sopra che ti sbracciavi che facevi hai perso nel 9 tanto farò mai siamo quasi alla fine dunque purtroppo dire oggi che la squadra non ha seguito l'entore mi ha giocato male gli altri hanno giocato meglio mi ha risolto di vincere sinceramente come risultato a dimostrare sicuramente eravamo in una fase calante dunque ci voleva non so che cosa che qualcosa che ti potesse dare ancora forza per continuare a lottare e lotteremo sicuramente fino in fondo ma sinceramente oggi non ci ha riusciti a fare la partita diciamo che ci voleva quando tardi queste partite in questi momenti del campionato io ripeto ognuno è libero di pensare liberamente poi ognuno di noi ha le proprie coscienza secondo me io penso che quando uno ha la coscienza a posto può sbagliare anche ma insomma fa dormire lo stesso con serenità poi dopo tutti abbiamo vinto tutti abbiamo perso bisogna essere però anche realisti non è importante ma sicuramente averci provato in questa annata almeno quello poi il coraggio non ci è mancato poi forse non raccoglieremo quello che hai detto tu che hai chiamato il sogno però l'importante è averci provato averci provato e averci provato tutto per me conta questo poi è difficile chiudere il campionato adesso beh ripeto io dico che se andiamo tutti con il concetto che ognuno di noi ha fatto tutto il possibile pur sbagliando si può finire bene nello stesso perché ognuno di noi ha l'obbito questo sì nell'ultimo secondo dell'ultima partita di dare tutto quello che ha poi dopo non vince chi dà solo il massimo anche perché ci sono anche gli altri che penso cerchino di dare il massimo negli altri dunque il calcio non è un un tiro alla fune un piocco complesso M. Giorgio Roselli dopo questa sconfitta 3 a 0 ha già spiegato le sue opinioni in conferenza stampa 3 a 1 scusi una domanda dopo 10 minuti abbiamo visto dare indicazione agli attaccanti non l'ascoltavano lancio lungo palla persa allargato le braccia e si era seduto in panchina questo il finale di campionato è una cosa abbastanza strana da vedere la prima cosa è che non mi sono mai seduto in panchina se non la fine del secondo tempo dunque cominciamo a dire le cose come stanno poi che io chiedevo di fare delle cose e un giocatore piuttosto che un'altra non è neanche questo vero io penso che bisogna essere realisti e vedere che abbiamo fatto una partita non buona ci voleva una partita straordinaria non ci siamo riusciti loro sono stati più bravi e hanno vinto con merito però la cosa importante è che cosa rimanga e che deve rimanere che il sottoscritto come penso tutti poi se qualcuno non l'ha fatto non lo so abbia dato il massimo e dunque bisogna riconoscere anche i propri limiti è un'annata dove tutti noi abbiamo sofferto molto per un periodo abbiamo sognato di raggiungere i playoff probabilmente non ci riusciremo a questo punto abbiamo soltanto l'obbligo di arrivare in fondo dando il massimo e avere la coscienza a posto sapendo di aver dato il massimo allora cosa è mancato in questa seconda parte del campionato onestamente saperlo è difficile penso che siamo andati un po' in difficoltà sicuramente nel periodo che ci sono mancati i giocatori più importanti e poi quando stanno fuori sono sette partite è difficile anche era un momento cruciale averli al top e dunque come tutte le squadre del mondo non avere i giocatori al top e essere ai limiti ti porta magari a non continuare a fare bene come stavamo facendo invece dal punto di vista fisico crede che lo staff abbia fatto il massimo per arrivare con i giocatori non erano in forma crede che sia colpa anche del lavoro dello staff o solo la sfortuna e gli infortuni io dico che lo staff ha lavorato bene molto abbiamo pullato un sogno per parecchio tempo un sogno che probabilmente non era neanche nelle previsioni e dunque bisogna essere ripeto realisti e dire che io almeno ripeto se ognuno di noi è lato in massimo esce a testa alta da un'annata che è di grande sofferenza che però sapevamo all'inizio che sarebbe stata così ringraziamo il ministro 24 ore al giorno di musica e sport 24 ore di emozioni più celesti cocar un nome una garanzia di musica e sport di musica e sport di musica e sport di musica e sport